Ero molto scettica, perché ovviamente avevo provato molte altre diete. In realtà avevo un po' studiato il metodo in internet e avevo capito che il mio problema non era un problema rettamente di volontà, ma era un problema proprio di struttura chimica del mio corpo, cioè come il mio corpo reagisce ai cibi. Mi sono sganciata dal senso di colpa personale, di non riuscire a dimagrire, di non riuscire a gestire una forma fisica ideale, capendo che era il mio corpo particolarmente sensibile a certe tipologie di alimenti, nello specifico gli zuccheri, il sale, che è stata una scoperta, è un grande problema. E quindi mi sono come rasserenata, ho detto ok, questo è il mio metodo per stare bene. E sono partita.